Notte difficili in ospedale a Vicenza. Alle 1.20 scatta la richiesta di aiuto. Parte dal reparto di psichiatria. Un 49enne nato a 90 vicentini rifiuta le cure dei sanitari e dà di matto. Approfittando della distrazione degli infermieri prende per il collo la dottoressa di turno e le intime di chiamare un taxi perché lui lì non ci vuole stare. La fuga però viene fermata in località Campedello dalla volante che era stata allertata. Il corpolento 49enne non vuole sentire ragioni nemmeno lo spray al peperoncino lo ferma e si scaglia contro gli agenti atterrandone uno. A quel punto arriva l'ambulanza e il medico riesce con una puntura a sedare l'uomo che è stato poi riportato in ospedale ma sono già le 2.20 di notte. Il 49enne è stato comunque denunciato per esistenza a lesione pubblico ufficiale.